Mi trovo a Piazza Fontana in un luogo storico di Taranto e da oltre un anno, forse anche un anno e mezzo o di più ancora, ma posso dirvi almeno un anno, c'è questa situazione, vedete la pavimentazione completamente rotta, una grata che sprofonda in un punto artisticamente importante della città e ogni volta che le macchine transitano, vedete questo sali e scendi con un rumore che si ripropone puntualmente, ma oltretutto al di là del rumore che può essere un fatto secondario parliamo proprio di ragioni di sicurezza, perché qui, lo ripeto, lo stiamo vedendo in presa diretta, transitano le macchine e riportano danni ovviamente agli ammortizzatori e a quant'altro. Vedete un po' che brutta immagine che diamo, perché i turisti, grazie a Dio, vengono a Taranto, però poi assistere a uno scempio del genere è qualcosa di veramente osceno, è qualcosa di assurdo. Cosa pensi di questo problema? È bellissimo, ma è terribile, è terribile, è molto dannoso. Questo ce lo dicono dei turisti, vedete? Noi vogliamo promuovere Taranto, ma vogliamo anche far sì che i turisti se ne vadano da Taranto non solo con l'immagine della bellezza naturale, ma con un'immagine di città ben gestita. Invece qui i turisti vanno via con l'immagine di una città abbandonata e degradata, un degrado ed un abbandono targati Melucci-Musillo. Melucci perché è stato il sindaco, Musillo perché ha amministrato, è stato in maggioranza quattro anni e mezzo con Melucci. Vedete i rischi che si corrono per i pedoni, per le persone che passano e abbiamo anche evidenziato i rischi che vi sono per gli automobilisti. Immaginate un po' i danni che riportano i braccetti, le sospensioni e le altre varie parti meccaniche delle automobili. Mi domando come l'ex sindaco Melucci possa parlare, continuare a parlare di rinascita. In una città normale questo problema sarebbe stato risolto in 4 e 48, proprio esagerando in una giornata di lavoro, in 3-4 ore. Invece qui abbiamo superato un anno, un anno e mezzo. Completa inefficienza da parte dell'amministrazione Melucci, completa inefficienza da parte della gestione del commissario Cardellicchio. E ora viviamo la magia dei riti della settimana santa e pensate un po' che brutta immagine che diamo e soprattutto che rischi che corriamo. Oltretutto la pavimentazione è davvero uno scempio, abbiamo le chianche di color nero, poi abbiamo dei mattoni di marmo color ravano chiaro, poi abbiamo dei rappezzi di asfalto. Questo è davvero una oscenità, Taranto è una città d'arte e non merita questo vergognoso tappeto, questo vergognoso abito di Arlecchino. Io da sindaco realizzerò come già anticipato uno sportello SOS pronto intervento con una squadra 24 ore su 24 attiva di tecnici che potranno, in base alla segnalazione ricevuta in tempo reale, provvedere. Ripeto, è un lavoro che si può fare in mezza giornata. Qui non è bastato un anno, un anno e mezzo. Meditate cittadini, meditate. Grazie a tutti.